Responsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgio Meloni. Anche se sti giorni sto regluso, non sto in condizioni di fermuso, certo che mi sento un po' sospeso, l'ansia mi sevo a mangiare il sorriso, provo a non pensare e scrivo un pezzo, poi mi faccio il giro del palazzo, prima che mi morirò di fame, prima che finisca pure il pane, vorrei rivederte, non so come, guardo il sole entrata alle pensiare, io resto a casa, esco col cane. Visto che da tempo sto rinchiuso, e sta libertà è monouso, per non sbattere la capoccia al muro, penso a far progetti per futuro, con la compagnia del sto musetto, mo me faccio un altro bel giretto, prima che mi morirò di fame, prima che finisca pure il pane, vorrei rivederte, non so come, ma sto desiderio va a sperare, io resto a casa, esco col cane. cosa che mi assedì a parlare, io resto a casa, Ciao col cuore, al medico Chi è? Andiamo Dai Piccolo Vieni giù, vieni Dai, alzati in piedi Dove devi andare tu?